9.000 prodotti non sicuri sono stati sequestrati in un esercizio commerciale di Ascea dalla Guardia di Finanza di Marina di Casalvelino. All'interno dell'attività vi era in vendita materiale elettrico e oggettistica di vario tipo, priva delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo. 9.000 in tutto gli articoli sequestrati, fra cui batterie, prese elettriche e giocattoli, per un valore complessivo di 3.000 euro. Per il titolare dell'attività commerciale è scattata la segnalazione alle autorità competenti e adesso rischia sanzioni fino a 25.000 euro.